La scorsa estate ha rappresentato un vero e proprio terremoto per l'hockey in line vicentino con la scissione societaria che ha portato alla nascita di due realtà. I diavoli che attualmente disputano il campionato di serie C e sono piuttosto in difficoltà e il Vicenza Hockey che sta invece dominando il campionato di serie B. La stagione 23-24 quindi per Vicenza Hockey è un momento di passaggio e come si augurano alcuni dei suoi senatori che sono rimasti nonostante la bufera estiva intende tornare al più presto nella massima divisione. Vincere il campionato di serie A l'anno scorso ritrovarsi in serie B è un po' anomalo però tutto sommato la stagione è partita bene, il momento sta ancora andando bene, l'obiettivo è di vincere tutte le partite e di conquistare la serie A il più presto possibile. Senti, dato che hai vissuto tutte e due le categorie, quant'è la distanza reale tra serie A e serie B in termini qualitativi? C'è molta distanza soprattutto con le prime due squadre della serie A perché a fine di conti se guardi dal terzo posto in giù il livello è abbastanza livellato e credo che la serie B per noi è un livello basso per la squadra che abbiamo noi e se con questa squadra dovevamo fare la serie A penso che sul terzo posto ci giocavamo. Intanto sabato al pattinodromo di via Ferrarine va in scena la semifinale di andata della Coppa Italia di serie B. Vicenza ospiterà la sniper Tecno Alt con pagine di Civitavecchia con l'obiettivo di essere assoluta protagonista anche in questa competizione. Ovviamente quest'anno quello che c'è vogliamo portarla a casa come ogni anno però quest'anno abbiamo adesso sabato abbiamo il Civitavecchia in semifinale e dobbiamo assolutamente vincerla e poi penseremo alla finale di Coppa Italia. Civitavecchia che mi pare che in classifica in campionato è al terzo posto quindi comunque una squadra abbastanza forte per quanto riguarda la serie B. Sì 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 ma allora sono cinque squadre totali quindi sono diciamo tutte lì a parte forse un po' Roma che ha qualcosa in meno però di sicuro non sottovalutiamo nessuna partita il campionato sappiamo com'è sappiamo che squadra abbiamo andiamo dentro per vincere e per chiudere il più presto questo campionato Coppa Italia e provare a tornare sul primo possibile. Intanto in Serie A sono gli Asiago Vipers a tentare di contendere il titolo alla corazzata Milano e sentiamo cosa pensano dei cugini dell'altopiano arricchiti da alcuni innesti provenienti proprio dalla diaspora vicentina Nicola Frigo e Fabrizio Pace. Asiago ha un ottimo organico quest'anno con quattro nostri ex compagni di squadra che gli stanno dando una grande mano stanno giocando bene però forse nelle partite con Milano gli manca qualcosa di essere abituati a giocare quelle partite che contano le gare secche e loro dall'altra parte Milano è il suo pane 10 anni che giocano quelle partite e sono pronti però la stagione è lunga vediamo. La pensi così anche tu Fabrizio o c'è qualche speranza per l'Asiago? No allora io penso come ha detto il fighter però su tre partite non è detto ancora niente noi l'anno scorso abbiamo perso quasi tutto e dalla fine siamo riusciti a portare a casa il campionato quindi io vedo che l'Asiago è sempre lì e sempre lì se la gioca sempre e credo che arriverà un bel momento per loro l'importante è che tengano duro non vada infrantumi la squadra che non credo e secondo me ce la possono fare quest'anno portare a casa qualcosa. Esatto. Grazie a tutti